Ciao e benvenuti al testo di comprensione. Il testo di comprensione di oggi parla di un film meraviglioso diretto da Federico Fellini. Vuoi parlare di questa pelicola meravigliosa e immensa che parla della società italiana durante gli anni 50 perché è un esempio concreto della vita in Italia, delle persone, dei caratteri, delle personalità, dei personaggi che vivivano, diciamo, più già di 60 anni fa. Adesso segue il nostro grande interesse, dimostrato durante la nostra riunione virtuale, sulle tematiche artistiche e culturali. Quindi io vorrei ora pronunciare, certamente con attenzione le parole, però mi importa che in questo caso comprendano. A la direzione di ogni parola è un po' complicata, ho messo una traduzione in spagnolo, però la maggior parte della cosa non sono traduzcita perché sono ben entendibili. Se non la comprendono o non la comprendono, potrebbero utilizzare un diccionario online e io le vorrei dare anche il enlace. E avere un secondo, se le puoi gustare, se è una pelicola realmente immensa, meravigliosa, che conosci da praticamente in tutto il mondo, può essere che tu también la conozca, però tal vez no la hayas visto. Y por eso también voy a darti a añadirte el enlace para poderla avere en versión integral en Youtube. Ok, dunque, parliamo appunto della Dolce Vita. Ok, La Dolce Vita è un film del 1960, diretto da Federico Fellini. Vincitore della Palma d'Oro al XIII Festival di Cannes. Lo ripeto. La Dolce Vita è un film del 1960, diretto da Federico Fellini. Vincitore della Palma d'Oro al XIII Festival di Cannes. È sicuramente uno dei film più famosi della storia del cinema. È sicuramente uno dei film più famosi della storia del cinema. Perché lo ripeto due volte? Perché la prima volta faccio, come sempre, la tensione a le parole. E questo fa che a volte la intonazione non sia perfetta. Perché quando rompes il ritmo, ovviamente la intonazione perde un po' di valore. La seconda è per, quindi, non super rapido, però certamente è la forma migliore per che salga un'intonazione corretta, i Sentien Damas. La Dolce Vita è un film ricco di significati, ed offre una riflessione sulla natura umana, drammaticamente volubile, come il protagonista, il leggendario Marcello Mastroianni, un uomo pieno di limiti, emotivamente debole, finto e malinconico. Questo film è considerato da molti un film immenso, meraviglioso. Questo film è considerato da molti un film immenso, meraviglioso. Offre il ritratto di una società in disfacimento, disfacimento, persa nella sua decadenza. Un mondo tanto pieno materialmente quanto vuoto moralmente. Un ritratto impietoso della società italiana stanca, disillusa, indolente, corrotta, immorale, cinica, superstiziosa e ruffiana. Ovviamente il testo di oggi può sembrare un po' complesso. In realtà, non ho mai avuto un testo tant pieno di parole, di vocabulario e certamente di verbi o di una forma tan elegante. Però mi ho avuto di che il talento che hanno è molto grande. E mi ho avuto durante la riunione che abbiamo avuto virtualmente che sono capace di elaborare, di comprender. E qui ci sono molti vocaboli simili, similiari. E questo credo sia molto importante. Perché di una volta le darò una idea di come può parlare o scrivere di forma elegante l'italiano. E a un, questo è lo che voglio, in parte, dare una gran motivazione. Quiero motivarlos perché sì, a un contesto tan complicato e difficile. Ustedes possono entendere, possono comprender, ma o meno generalmente il sentito. E possono individuare tantas parole utili e similiari. Quindi abbiamo progressato molto. Perché certamente le cose più facile sarà un, non, più simple expresarsi. Assicché, ripeto, l'ultimo punto, con una intonazione migliore. E il sujetto, ovviamente, seria, bajo intendito, seria il film, no? Questo film è considerato da molti un film immenso, meraviglioso. Offre il ritratto di una società in disfacimento, persa nella sua decadenza. Un mondo tanto pieno materialmente quanto vuoto moralmente. Un ritratto impietoso della società italiana stanca, disillusa, indolente, corrotta, immorale, cinica, superstiziosa, ruffiana. E' sicuramente un film che parla di esistenzialismo, alienazione, erotismo, noia ed improvviso benessere. Emozioni agli estremi, felicità e tristezza che si confrontano. Si danno il cambio, si annullano. Un protagonista alla continua ricerca di emozioni, amore, sesso o malinconia. Fa tutto parte della vita, della dolce vita. Quindi, un protagonista alla continua ricerca di emozioni, amore, sesso o malinconia. Fa tutto parte della vita, della dolce vita. E spero che questo testo le guste. Ovviamente è un testo complicato, non se lo niego. In realtà però, vamos ora a analizzare un pochino le parole similare, perché è molto parole similare. Ok? E' chiaro che hagan anche questo in autonomia, ma la cosa che mi importa molto è che puoi notare la elegancia del testo, nel senso che ci sono molti adgeti, ci sono un ritmo che cambia rapidamente, sembra in alcune parti quasi un testo di teatro, un guion di teatro, teatral. In realtà è un testo che expresa e parla di una pelicula molto difficile, o per lo meno molto difficile di semplificare. È una temàtica tan complessa, tan complicata come la del existenzialismo, della alienazione, della moral, tutti i problemi confrontati durante esa epoca, che sono attuali, e per questo questa pelicula è molto famosa, perché sono cose attuali, della superficialità, della differenza, del malestar di vivere, eccetera, eccetera, che ovviamente è difficile semplificare. Osea, hubiera sido quasi impossibile per me creare un testo super simple. Hubiera potuto solo dire, la dolce vita è un film, punto. La dolce vita è un bel film, però come io credo in voi, e se che possono entendere, va ora una volta a leggerela, ora con più tranquillità, senza prendermi come faccio usualmente con le parole, prendermi in tono ironico, nel senso che mi faccio a pronunciare la parola con attenzione. Ora voglio dare un volo, voglio volare, non si dice volare, come si diria, voglio farlo con la justa libertà di poterlo interpretare, il testo. Quindi, usted tiene che intendere anche qui sotto, dopo che vogliono cercare il video, può provare l'exercito di pronunciazione. La dolce vita è un film del 1960, diretto da Federico Fellini, vincitore della Palma d'Oro al XIII Festival di Cannes, e sicuramente uno dei film più famosi della storia del cinema. La dolce vita è un film ricco di significati, ed offre una riflessione sulla natura umana, drammaticamente volubile, come il protagonista, il leggendario Marcello Mastroianni, un uomo pieno di limiti, emotivamente debole, finto e malinconico. Questo film è considerato da molti un film immenso, meraviglioso. Offre il ritratto di una società in disfacimento, persa nella sua decadenza, un mondo tanto pieno materialmente, quanto vuoto moralmente. Un ritratto impietoso della società italiana stanca, disillusa, indolente, corrotta, immorale, cinica, superstiziosa e ruffiana. E' sicuramente un film che parla di esistenzialismo, alienazione, erotismo, noia ed improvviso benessere. Emozioni agli estremi, felicità e tristezza che si confrontano, si danno il cambio, si annullano. Un protagonista ha la continua ricerca di emozioni, amore, sesso o malinconia. Fa tutto parte della vita, della dolce vita. Ora, che voglio che facendo attenzione, quando ci sono molti adgeti, come in questo caso, è normale che non sia facile intonare perfettamente il testo. Però il trucco come io lo faccio, ti permette di utilizzare, senza cansare la persona che ti escuta, alcuni registri di intonazione. Ossia, per esempio, io faccio, non dico disillusa, indolente, corrotta, immorale, cinica, perché si, se pare se è terribile, robotica, intonse, come che faccio? Un ritratto impietoso della società italiana stanca, disillusa, indolente, corrotta, immorale, cinica, superstiziosa, e ruffiana. Poi vedo come ho levato e baso la intonazione. È come se, un po' arrivo, un po' basso, per praticamente creare un'alternanza che fa che la persona che escuta sia con interesse vivo. Entonse, vamo a ver, ovviamente, in qualche momento puoi apagar il video e fare l'esercizio di pronunciazione che sta qui a basso, però, se, in cambio, chiedono seguire, io le voglio fare un po' di analisi. Ok? Entonse, diretto. Diretto è un participio. Che significa dirigito? Sicuramente significa, certamente, uno dei film, che seria della pellicola, però film, noi lo diciamo in italiano con il masculino, quindi film all'inglese, all'americana. Più famosi della storia del cinema. A ver, riflessione, io lo puse però, tambien muy similar, significati, no? Muy similar tambien. A chi cambia un poco? Natura se trasforma, in spagnolo, in naturaleza. Però si dice natura umana. Ok? Che sia la natura normal, della naturaleza del creado, creada por Dios, e tambien la natura, intesa come metaforica, natura umana. Drammaticamente volubile. Volubile hai una palabra, spagnola, che è voluble. Però io, come talvez no se usa mucho, le puse tambien in constante, come traduzione. e ovviamente qui abbiamo pieno, che lo puse a chi? Geno. Ok? Se non lo incontrano a chi, sta a ca. Geno vuol dire pieno. Debole, devil, finto, falso, seria. Disfacimento è come decomposizione della società. Persa è un participio perdita. A chi teniamo impietoso, osea, sin piedà, despiadato, stanca, cansata, o stanco, cansato, quindi disillusa, desilusionata, indolente se queda igual, perché tambien si vanno a buscare in vocabulario a indolente la palabra, a chi se puede entender non se lo chiedo esigio, ruffiana, a chi è lo mismo praticamente, anche lo puse, e sicuramente no, certamente, noia, a chi è la palabra che ma di tutto creo che cambia, noia, in spagnolo è aburrimiento, in italiano noia, e improvviso, repentino, significa benessere, benestar, quindi si confrontano, il verbo confrontare significa comparare, annullar, esiste tambien in spagnolo, noi diciamo annullare, o puede ser cancelan, in este caso, annullano, e ricerca, la ricerca, si dice appunto ricerca, e in spagnolo è buccheda. Allora, ragazzi, io spero che questo testo vi sia piaciuto, ovviamente, non spero che a voi lo pronuncia perfettamente, o che tenga la intonazione correcta, eccetera, e voglio che si entienda con clarità, che tutti i miei intenti di pronunciare, di intonare perfettamente, che sembra quasi una obsesione, che non è, non è, non è, non è che sia una motivazione per a voi, per a voi, che sia, se tengo miedo, non lo sa facer, non lo sento non lo sa facer, non lo sa facer, che lo fanno perfettamente e che lo sappiano fare, è normale e io solamente è normale, voglio dare la excelenza per che a voi, almeno a livello di oito e intenti ripetare qualcosa che abbia un eccellente sonido un eccellente interpretazione però ovviamente non lo tome come qualcosa che le tenga di dire quando io sarò come lui è normale io non parlo bene spagnolo e lo parlo hace molto tempo io non ho studiato, è vero però voglio dire che è normale perfettamente normale, non preoccupi e tomenlo come qualcosa di sopra Marco mi vuole dare un'eccellente pronunciazione un'eccellente intonazione per acostumbrarsi e quando io sarei listo potrei essere come lui però ancora, lo che faccio è apprendere come lo fare, almeno a livello di oito mi agarro un po' la costumbre di ascoltare e di tratare quindi di ripetire e di fare ma o meno come fa ma non mi va a salire uguale questo è normale però io credo realmente in ti credo in tutti in realtà lo che ho visto l'altro sábado del viernes mi dà super super motivazione e il gran entusiasmo perché tiene tutto il talento per affrontare questo così che lo hagan passito a passito e sicuramente a soltare a sapere a parlare a expressare molto bene perché già voi lo sapete fare necessitiamo perfezionare ok così che quando tu chiedi lo hai studiato lo hai fatto un po' di intenti tu solo o tu sola senza l'esercizio di grafazione ti va qui e gravi la tua prova ok per adesso un grande abbraccio spero che ti abbia gustado e io alterno anche cose facili a cose difficili che non sono difficili sono tal vez interessanti di forma differente perché ovviamente in nostro gruppo a veces hai persone che le gustano una cosa persone che le gustano l'altra io trato di anche hacer che tose e queden felici ok un grande abbraccio ciao da Marco ciao ciao